Non si arrestano le polemiche sulle scale del ponte Capograssi di Sulmone, esposte al degrado e all'incuria. E' la seconda segnalazione che arriva ad Onda Tg. La prima partì da un gruppo di cittadini lo scorso 12 settembre. Quest'angolo del capologo Peligno, sostengono i sulmonesi, dovrebbe essere uno dei tanti biglietti da visita per la città e invece è diventato un orinatoio pubblico. Un pessimo impatto per coloro che arrivano a Sulmona per la prima volta e percorrendo la scalinata del ponte si ritrovano automaticamente nel centro cittadino. Chiediamo per questo luogo di passaggio più attenzione da parte degli organi preposti, proseguono i sulmonesi. Non si può lasciare nel più totale abbandono questo punto nevralgico della città. Diversi mesi fa alcuni turisti, percorrendo la scalinata in questione, sono rimasti basiti. L'appello a una maggiore manutenzione è rivolto anche ai nostri concittadini. Il buon senso infatti non può e non deve mancare.